Buongiorno ragazzi, bentornati e benvenuti in un nuovo vlog. Lo so, ho girato un vlog anche ieri, però mi andava di girarvi uno anche oggi perché in teoria avrei delle cosette carine da fare. Qui ho detto, why not? Mi sono svegliata da poco, quindi ho gli occhi gonfi, lasciate stare che ovviamente ultimamente dormo poco, quindi ho due occhi gonfi tanti. Sono 9.20, mi devo fare un po' di skincare, preparare, che tra un po' devo andare dal dentista, quindi laviamo i denti. Allora, perché devo andare a prendere queste nuove mascherine? Perché in realtà io devo ancora finire con l'Invisalign. L'altra volta che sono andata mi hanno detto che appunto avrei dovuto mettere altre mascherine, quindi mi hanno ripreso l'impronta e mi hanno stampato delle altre. Perché per addrizzare bene il tutto hanno detto appunto che ne mancava qualcuna e qui ho detto, beh certo ci stiamo, finiamo. Poi mi si è appunto scheggiato il dente, non so se lo vedete che c'è qui. Io non so se adesso possono aggiustarmelo adesso oppure no, perché avendo preso le impronte con questo dente, le mascherine dovrebbero fittare perfettamente così. Quindi devo chiederglielo. In realtà tutto quello che faccio ultimamente ovviamente gira intorno al mio imminente viaggio a Los Angeles. Quindi dico l'unghia mai saltata, prima del viaggio ovviamente non so neanche se potrò rifarla o se devo andare così, cioè vi rendete conto. Il dente ovviamente quando è che si deve scheggiare non durante l'anno, adesso, quindi cioè io non lo so. Sapete quando dite, oh quando è che deve succedere, becca sempre il momento sbagliato. Quindi staremo a vedere che cosa mi diranno. E poi dopo devo andare a spedire dei pacchetti, quindi mi porterò anche i pacchetti da spedire. Volevo fare un giro al centro commerciale, perché è un po' che non faccio shopping di persona e sempre in funzione del concerto mi serve qualcosa da vestire. Concerto, viaggio, qualcosa di figo, però comodo. Ho fatto degli ordini online, ma è una vita che non faccio anche dello shopping in negozio, quindi potrei andare a dare un occhio. Quindi questo più o meno è la cosa diciamo. Poi dopo mi devo lavare i capelli, perché è già da ieri che ve lo dico e quindi direi che è giunto il momento. Volevo fare la mia solita camminata, sempre se il tempo me lo concede, ma non lo so. Vedremo più tardi. E poi ovviamente devo lavorare, perché qualcuno deve lavorare, insomma. Le cose non si fanno da sole. Stamattina mi sono svegliata con la fantastica notizia. Che il gruppo Hybe, che è quello che segue, che è monitora i BTS e altri gruppi K-pop, tipo Yen Hypen, i TXT. Sto ancora cercando di capire se hanno fatto dei nuovi videogiochi o hanno scritto tipo delle fanfiction, oppure se sono semplicemente storie dove loro recitano. Oppure tutto, tutto di quello che vi ho elencato, ho fatto sta, boh, che è uscita sta cosa nuova. Quindi sto cercando di capire. Appena avrò notizie e novità vi farò sapere. Detto ciò vado che sono anche in ritardo. Allora eccomi qua appena uscita fresca fresca dal dentista. Tra l'altro oggi c'era anche Emanuele proprio, quindi ho potuto parlare con lui praticamente. Allora mi hanno dato le nuove mascherine. Qui dentro ho le altre che devo mettere fino a metà dicembre più o meno. Poi la dottoressa mi ha limato i denti che avevo scheggiati. Che ora non si nota perché quando mi hanno preso appunto l'impronta per queste mascherine nuove ce l'avevo ancora scheggiato quindi rimarrò con le mascherine scheggiate. Vabbè, comunque me le ha limacchiato. E poi mi ha fatto un'ortopanoramica perché mi ha detto che ovviamente mi sono usciti tutti e quattro i denti del giudizio. Cosa che io avevo già visto, però quelli sotto sono rimasti incastrati. Quindi ne è uscita una parte, l'altra parte no. Se non li tolgo poi si cariano, si carica quello vicino, un casino. Quindi poi gli fa vedere la mia ortopanoramica al dottore. Vediamo che cosa si deve fare, se li dovrò effettivamente togliere o no. E poi mi ha detto che ho una cosa molto rara. L'allarcata superiore che sono dei denti in più. Quindi mi ha detto ne ho nove, non ho capito che mi ha detto. Comunque ho due denti in più, sopra il dente del giudizio c'è un altro dente. È rara da vedere, ovviamente. Chi è che ce la poteva avere se non io? Quando mai è una cosa normale. Infatti vado lì e mi fa, ma te l'hanno mai detto che hai dei denti in più? E io, no dottoressa, non me l'hanno mai detto. Quindi assurdo. Io ho detto, vanno tolti. In teoria questi sopra sono usciti bene, quindi dovrebbe andare tutto bene. Che mi ha detto nella cosa dei numeri napoletani porta anche fortuna, avere più denti. Speriamo, speriamo. Comunque detto ciò, vediamo che ora si sono fatte. Sono quasi le undici, quindi riesco effettivamente a fare i miei giretti. Quindi riparto e vado al centro commerciale. Prima tappa H&M. Anche perché mi sono accorta di avere il leggings bucato. Ciao, guardate qui. Quindi provo questi e poi ho trovato questo toppino, che dovrebbe essere tipo contenitivo, quindi ho preso l'S. Ora sono ad Abershka a provare un pochino di cose. Forse un pelo troppo anni 70. Però il toppino è bello, il toppino mi piace molto. Niente, oggi un car blog praticamente. Sono uscita adesso dal centro commerciale. Alla fine ho preso un po' di cosine e a casa vi faccio vedere tutto. Però stavo morendo di fame, visto che a pranzo ho il couscous, sono andata al supermercato, mi sono presa il couscous con le verdurine e via. Così poi dopo posso continuare i miei giretti senza lo stress di andare a casa, dover fare le verdure, bla 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 bla. Devo anche chiamare la farmacia che mi ha consigliato una mia amica per capire come funziona la questione del tampone e soprattutto quando devo farlo, se poi devo partire al 27. Quindi c'è, è tutto un giro, devo cercare di capire. È arrivato anche un pezzo del mio ordine di shine, strano ma vero? Questo toppino trasparentino così, che è super figo. Questo mi piace, questo mi piace. Magari con un reggisino non bianco sotto, ma vabbè. Guardate che carino. E ora vi faccio vedere anche le cose che ho preso, intanto poi le vedrete insieme nell'all penso. Però intanto vi faccio un po' dare un'occhiata, intanto che qui si sninna, è vero? Da H&M ho preso questo toppino che in realtà è più lungo di come appare, infatti è super comodo. Ed è praticamente abbinato ai leggings che io ho già, vedete, sempre di H&M con le costine. E questo qua l'ho pagato 15. Invece da Bershka ho preso questa borsetta, che in realtà stava alla cassa, infatti non ha neanche il cartellino. Credo di averla pagata tipo 15 euro. Sì, 15,99. Ora, io odio le borsette con la spalla, però, cioè, ci sta dai. In realtà ho preso questo pantalone semplice della tuta, che ha, vedete, l'elastico così in vita. Vi faccio vedere anche di questo codice prezzo, eccetera. E ovviamente l'elastico anche sotto. Poi ho preso da mettere nella borsetta, cioè dai, guardate, ma di cosa stiamo parlando? Questo portafoglino, perché quello che ho io è grande, me ne serviva uno piccolo per le borsette appunto piccole. Questo qui è il codice, questo qui è il prezzo. Mi piaceva perché aveva il coso del portamonete, che di solito non ce l'hanno. Poi, questo è stato proprio una cavolata. Però, io lo volevo da troppo un cosino del genere da mettere al telefono. Ho trovato questo con la farfallina, tutto sull'illac, ho scritto call me baby, che, vabbè, anche meno però. Devo trovare una cover a cui mettere questo coso. E in realtà l'ho pagata un po', perché l'ho pagata 7,99, ma... E poi ho preso la maglia che vi ho fatto vedere, il toppino quello arricciato qui. Il problema è che quello che vi ho fatto vedere indossato nel camerino era una M. In realtà poi ho preso una L, perché almeno è più comodo, non segna. In realtà è abbastanza presto, quindi dovrei riuscire a fare tutto, mi sono tenuta sta cosa su alla fine, vabbè. Sono le 3 quasi, quindi penso che... Adesso andrò a farmela la camminata. Poi dopo volevo rifarmi le unghie, o meglio. Io avevo preso appuntamento per rifarle, però poi non mi coincideva con i giorni in cui dovevo partire. Quindi ho detto, ok, lo prendo più vicino l'appuntamento a quando devo partire, quindi l'ho preso il 22. Perché tra l'altro è anche il compleanno di Giulia, il 22, vabbè. Così appunto le vado a rifare. Però avevo sottovalutato quanto mi crescessero le unghie, quindi credo che me le sistemerò adesso da sola, dopo. Anche perché, vabbè, prima sono diventate lunghissime, però guardate che ricrescita. Quindi è giunto il momento. Poi si sono rovinate tantissimo, soprattutto guardate quest'indice qua. Alla fine ho chiamato la farmacia per il tampone e dovrebbe andare tutto bene. Poi più avanti prenderò appuntamento. Guardate cosa ho ritrovato la mia cover di JK. Tra l'altro con tutti i dettaglietti Lilla. E avevo anche il cosino per mettere questo. Che si era già staccato, l'ho dovuto rincollare, vabbè, un casino. Comunque ci sta. Io mi sono preparata per andare a camminare. Questo è sto cosa, non so quanto resisterò con sto aggeggio che traballa, che fa cose. Sono appena tornata dalla mia camminata, sono quasi le 5. E ragazzi io vi devo flexare il mio bias raker. Perché, cioè, a volte, vi giuro, non so chi è peggio tra lui o il JK. Cioè io non lo so, ma come, come, come? Vi prego guardatelo. Cioè, dai! Jungi ti prego. Ciao. Ciao. Poi vabbè ovviamente c'è anche il JK qua ragazzi, che ve lo dico a fare. Voi non sentite la musichetta perché sono le cuffiette, ma vabbè. Ok, ok, amici, pensiamo positivo. Ho appena finito di limarle e dargli una forma. Questo è il risultato, le ho un po' accorciate. E ora vado con tutti i procedimenti. Sto finendo di applicare il colore. Mi piace molto questo qua. Questo qua di Passione Unghie. SP42. Si dovrebbe chiamare vanilla, se non sballo. Finite. Cioè, per averle fatte velocissimamente, aver ripreso solo la base sopra, direi che ci siamo. Allora, in realtà fosse per me io le avrei rifatte tutte, tutte, tutte nere. Però il problema è che non avendo quest'unghia, farle tutte nere, cioè, è brutto. Invece così se le vedi sfuggita, magari non si nota che manca un dito. Solo sulla parte della ricrescita ho messo, tipo, una base un po' più coprente, un po' più spessa. Quindi non ho dovuto né fare la limatura né nulla. Infatti, abbe, sono un po' cicciutelle rispetto a come mi piacciono a me. Queste, abbe, sono venute un po' meglio, ovviamente, fatte con la mano giusta. Almeno si è coperta la ricrescita e poi, insomma, tra 20 giorni, quando vado a rifarle, via. Detto ciò, adesso mi metto a disinfettare le cuffiette. Non so se vi ho mai fatto vedere come si fa, ma fatelo sempre, mi raccomando, perché vanno pulite. Vi faccio vedere come faccio. Prendete l'alcol, io ho questo qui etilico, però meglio ancora quello classico, tipo rosa, no? Poi una velina e cotton fioc. Vi prego, fatelo sempre perché le orecchie sono stra ricche di batteri, quindi è sempre meglio. Allora, vado a spruzzare l'alcol sulla cuffietta, ovviamente a distanza. E poi questo appunto tanto evapora, quindi non rovina niente. Col cotton fioc vado a pulire. Io ho queste qua col gommino, quindi pulisco bene il gommino sia dentro che fuori, come se fosse un orecchio. E poi con la velina invece vado sulla parte, questa qua un po' più grande, per pulire tutto il resto. Ci mettete un attimo e veramente lo dovete fare sempre. Non mi fate sentire che non fate queste cose perché veramente, guardate. Io sono un po' germofobica, lo ammetto, quindi mi fanno schifo anche se sono le mie, se sono sporche, no? Infatti c'è, chi mi ricordi non ho mai accettato i cuffietti di nessuno proprio per questo fatto. Quindi figuratevi se poi non pulisco neanche le mie, insomma. E ovviamente dovete pulire anche qui dentro perché poi ogni volta che le andate a rimettere, sporcate anche qui. E poi le rimettete belle pulitelle a posto. E via ragazzi, detto ciò io adesso mi butto sotto la doccia, non mi possono amare i capelli perché domani ho la lezione col personal trainer, io mi ero totalmente dimenticata di questa cosa. E devo anche finalmente andare a cambiare i piercing, ovviamente quando poi mi si gonfiano, giustamente, perché quando mai qualcosa vada per il berzo giusto, non si sa. I capelli li lavo domani mattina. Eccomi qua, docciata, pronta per andare a dormire. Sempre con i messaggi sottofondo. Vabbè, ho dovuto mettere un po' di cremina a questo piercing qua, il conch, perché appunto domani la devo andare a cambiare. Comunque ho appena fatto i baffetti, stranamente non sono rossa. Devo soltanto mettermi il mio burro cacaino, che non so se è successo anche a voi. Aspettate, vi devo rimettere qua. Io sono una persona che vive costantemente col burro cacao. Che sia burro cacao, che sia lip balm, o che sia un olio o qualcosa. Guarda, nonostante ciò, io più metto, più mi si seccano le labbra. Poi ci sono persone che non hanno mai visto un burro cacao in vita loro, e hanno le labbra sempre perfette. Io sempre scripolate. Il senso di tutto ciò lo chiedo a te, vita. Cioè, proprio alla vita lo chiedo, perché a un certo punto uno non sa più a chi. Dovrebbe esserci tipo un grandissimo centro informazioni, dove chiedere tutti questi quesiti. Voi vi rendete conto della quantità di burro cacao con io? Cioè, tipo, questa è una parte. Lì dietro ci sono tutti gli altri. Cioè, guardate quanti. Non lo so, se qualcuno lo sa, ditemelo. Tra l'altro mi è venuto un mal di testa atroce. Tant'è che sono le 11. Quindi diciamo che per oggi la finiamo qui. Io vi saluto, vi mando un bacio grande. E ovviamente ci vediamo al prossimo vlog, perché vi aspetto al prossimo video, prossimo vlog. Quindi ci sentiamo presto.